Dopo tanti anni di chiusura riapre la strada sulla litorania di Ponente a Biceglie. Limitata ad una strettoia per la presenza del cantiere, la strada è ora fruibile ad autovetture e pedoni. I lavori in via di ultimazione in tutta l'area hanno portato al riconsolidamento e alla messa in sicurezza della falesia che era franata molto tempo fa. Si è proceduto inoltre al rifacimento del muraglione sulla parete e al ripristino dei ciottoli al posto dei lastroni. Realizzate infine una nuova e ampia rampia d'accesso alla spiaggia ed una nuova illuminazione. Sono in corso i lavori per la nuova pista ciclabile che proseguirà fino al Ponte Lama e tornerà verso il centro. Grande è la soddisfazione del sindaco Angelo Antonio Angarani. Già l'anno scorso con l'ottenimento della doppio bandiera blu abbiamo lanciato Biceglie su un percorso importante di sviluppo turistico e di grande accoglienza. Adesso con questa opera importantissima, quella pista ciclabile che verrà a breve completata. Con un lungomare completamente riqualificato riusciremo davvero a far sì che il turismo diventi volano di sviluppo per la nostra città ma soprattutto oggi il sogno che si realizza è quello di assistere a questo vero e proprio spettacolo. Il mare, la costa riciotolata, la riqualificazione del territorio e la messa in sicurezza del territorio. È tantissima la soddisfazione di rivedere questa strada finalmente aperta e percorsa in sicurezza da pedoni e automobilisti. Ancora una volta una buona notizia per la nostra città.